Buoni amici, oggi, in Best Top, vi proponiamo un elenco dei migliori frigoriferi sul mercato. Migliorate la vostra cucina con un ottimo frigorifero, che vi aiuterà a conservare gli alimenti in perfette condizioni e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi mostreremo i migliori venditori, i più economici e con la migliore tecnologia. Nella descrizione e nel primo commento sono presenti i link per l'acquisto, dove è possibile verificare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Siete pronti? Eccoci! Nella Top 1, CIC, iniziamo con l'opzione più economica della lista, che di solito si aggira intorno ai 335 euro. Si tratta di un frigorifero con un ottimo prezzo e un ottimo look. Il suo design elegante e scuro in acciaio inossidabile sottolinea la qualità premium, conferendo un tocco di gusto ed eleganza. Il design include la tecnologia Low Frost, che riduce la presenza di brina. Il gelo basso prolunga il tempo di sbrinamento del vano congelatore. Inoltre, rende la pulizia più semplice e comoda. È sufficiente pulire i ripiani in vetro. Le piastre del vano sono finemente regolabili e flessibili per una migliore conservazione all'interno del frigorifero. CIC mantiene una buona, rapida e potente surgelazione, che mantiene gli alimenti freschi per lungo tempo. Questo frigorifero emette un suono massimo di 38 decibel, garantendo un funzionamento molto silenzioso. La sua capacità di stoccaggio ha un totale di 157 litri, 48 litri nel congelatore e 109 litri nel frigorifero, per conservare una grande quantità di alimenti. Insomma, un frigorifero molto completo, che ha la valutazione positiva di oltre 2000 utenti, e quindi non possiamo che consigliarne l'acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Samsung RB29. Continuiamo con un modello economico di un marchio di grande reputazione e qualità come Samsung. Questo modello si può trovare a meno di 750 euro. Questo frigorifero ha un design con pareti più sottili. Questo modello ha ridotto lo spessore per aumentare la capacità di stoccaggio. La capacità totale è di 390 litri. È dotato di tecnologia No Frost che ottimizza la circolazione dell'aria per evitare la formazione di brina, consentendo una circolazione costante e un raffreddamento rapido. Il frigorifero viene raffreddato in modo uniforme in ogni parte del suo interno. L'aria fredda esce attraverso le fessure disposte su ogni ripiano. In questo modo si garantisce che tutti i prodotti siano raffreddati allo stesso modo e rimangano freschi. Inoltre, è dotato della funzione Power Cool che, premendo un pulsante, espelle un getto d'aria fredda, ideale per raffreddare rapidamente cibi, bevande o preparare il ghiaccio. È inoltre dotato di tecnologia Inverter, conforme alle nuove normative energetiche, che consuma fino al 50% in meno di elettricità. Regola automaticamente la velocità in base alla richiesta di raffreddamento ed è anche ultra silenzioso. Con una valutazione di 4,4 stelle su 5 e il prestigio del suo marchio, Questo frigorifero è uno dei migliori per il suo rapporto qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, Ayer. Entriamo nella fascia media con uno dei marchi più importanti del mercato. Ayer ci offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Ayer ha optato per un design dai dettagli raffinati e molto più innovativi, elevando gli standard domestici ad altri livelli. Questo frigorifero misura 190,5 x 59,5 x 65,7 cm. Ha un incredibile design speciale chiamato Easy Access, che consente un facile accesso agli alimenti, ottimizzando lo spazio e garantendo una migliore refrigerazione e visibilità di tutti gli alimenti. Ciò è possibile grazie al congelatore a cassetti scorrevoli. La tecnologia No Frost distribuisce meglio il freddo e previene la formazione di brina all'interno. Inoltre, è dotato di compressori inverter appositamente progettati per lavorare in modo più silenzioso, raggiungendo fino a 37 decibel e funzionando anche in modo economico. Con questo frigorifero ogni alimento può avere la giusta umidità e temperatura, con zone specializzate in modo che i prodotti siano sempre gustosi e freschi. Portate a casa questo modello e scoprite un nuovo modo di mantenere sani i vostri alimenti con un frigorifero di alta qualità. Il design, la qualità, la potenza e il prezzo ne fanno la migliore opzione della sua gamma. Nella top 4, Midea. Se per voi potenza e capacità sono fondamentali, questo modello Midea, a meno di 800 euro, può essere un ottimo acquisto. Questo modello ha una grande capacità, fino a 360 litri, che consente uno spazio interno più ampio e profondo senza incidere sulle dimensioni dell'esterno. È dotato del sistema intelligente Super Fresh Plus, che garantisce temperature da meno 2 a 3 gradi Celsius, permettendo ai prodotti alimentari di mantenere la loro freschezza. È dotato della tecnologia No Frost, che semplifica la pulizia del frigorifero, in quanto non dobbiamo preoccuparci di rimuovere la brina o il ghiaccio superfluo, questa tecnologia se ne occupa. Il suo design di raffreddamento in metallo riesce a mantenere una temperatura costante e duratura e un raffreddamento continuo. Il raffreddamento del metallo posteriore provoca un rapido calo della temperatura. Il frigorifero e il congelatore possono essere regolati in modo indipendente, tramite il pannello di controllo a schioramento, dove è possibile scegliere la temperatura desiderata per ciascuno di essi. Con una valutazione di 4,4 stelle su 5, si tratta di un'opzione molto apprezzata e all'approvazione di molti utenti che l'hanno già provata, quindi ne consigliamo l'acquisto. Infine, nella top 5, Isense RQ. Se siete molto esigenti in fatto di qualità, profondità e potenza, questo modello top di gamma di Isense è un best seller. Siamo in presenza di un frigorifero con una presenza incredibile. Il colore nero con finitura in acciaio inox, la larghezza perfetta e il design solido gli conferiscono un tocco di eleganza e forza. Le porte sono piatte e sono dotate di una maniglia per facilitare l'apertura della porta del congelatore. Include la funzione My Fresh Choice, con la quale è possibile configurare facilmente lo scomparto inferiore destro attraverso l'impostazione della temperatura, scegliendo tra frigorifero e congelatore. Include anche la funzione Super Cool, che consente di congelare gli alimenti molto più rapidamente, conservandoli in modo più efficiente e duraturo. E risparmia anche energia. Inoltre, è possibile controllare l'umidità dei cassetti per mantenere gli alimenti sempre freschi. La cosa più importante è che tutte queste impostazioni di temperatura possono essere effettuate da qualsiasi luogo utilizzando l'app Wi-Fi sul telefono. La sua classe energetica è a più, è silenzioso e ideale per ogni cucina. Da Best Top, vi consigliamo questo apparecchio top di gamma, con il quale potrete godere di un'esperienza eccezionale. Hai dubbi su qualche modello? Scrivete nei commenti e li risolveremo al più presto. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima! Grazie per la visione!